Si è svolta al Liceo Classico Eschilo la prima riunione di familiarizzazione per i docenti dell'Uni3, l'Università delle Tre Età, sede di Gela. Dopo 20 anni di onorata presidenza, lascia Pinarces Giordano e le succede Angela Scaglione. Al via da oggi le iscrizioni che potranno essere effettuate dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 18.30 al Liceo Classico. La quota da versare all'Uni3 darà diritto ai partecipanti ad essere parte attiva in tutte le attività socioculturali ricreative, all'assicurazione obbligatoria, al tesserino personale. Gli iscritti potranno frequentare molti moduli formativi, il Novecento e le sue storie con il docente Liborio Mingoya, Alchimia a tavola con l'insegnante Franco Aliotta, Letteratura coordinato dalla professoressa Annunziata Calaciura, fondamenti di cultura russa con il docente Ivo Abela, avvio alla conoscenza informatica con Leo Buscemi, francese e inglese rispettivamente con gli insegnanti Silvia Scaglione e Fabio Nalbone. E ancora tra arte, architettura e design con Marilena Rampanti, cultura classica con il docente Lella Oresti, poesia gelese in lingua e autori contemporanei con Federico Efer, educazione fisica e ballo con Sara Tandurella, comunicazione e teatro. Una straordinaria e molto ricca offerta formativa con molte novità che hanno subito acceso entusiasmo tra i docenti. L'Uni3 non ha fini di lucro e aperta alle persone di tutte le età, senza distinzione di razza, religione, nazionalità, condizione sociale, convinzione politica, nel pieno rispetto della democrazia. Le elezioni si svolgeranno da lunedì al venerdì nel pomeriggio, dalle 17 alle 20 nei locali del liceo classico Eschilo di Gela. Il nuovo presidente Angela Scaglione darà il benvenuto agli iscritti a novembre con una cerimonia ufficiale.